Più moderno, interattivo e a misura di cittadino, è la nuova versione del sito del Consiglio regionale che verrà lanciata nei prossimi giorni di maggio. Tante le novità e le innovazioni nel campo della trasparenza e della partecipazione, con nuovi servizi a disposizione dei navigatori. Tra le novità la rassegna web visibile a tutti, con notizie da migliaia di siti di news, più spazio alla social tv, alla diretta streaming dei lavori d'aula e ai social media.